Troppo buono! Prendo due melanzane e le taglio a rondelle. Adesso cospargo le melanzane con del sale da entrambi i lati. Poi mettiamo le melanzane in uno con la pasta. Diana, ma perché cospargiamo di sale le melanzane? Lo facciamo per facilitare la perdita d'acqua delle melanzane e poi in questo modo diventano anche meno amarognole. A questo punto dopo circa dieci minuti, come vedete, ve ne accorgerete che le melanzane hanno rilasciato acqua e quindi le asciughiamo con della carta da cucina. E ora andiamo a grigliare le nostre melanzane. Spennelliamo con olio la nostra griglia. Se non avete la griglia potete farle in padella. Assolutamente sì, senza problemi. Le prime melanzane sono pronte, quindi le mettiamo sul piatto e grigliamo poi anche le altre. Le melanzane sono pronte, guardate che belle e che profumino. Adesso le mettiamo da parte e prendiamo un avocado, mi raccomando deve essere maturo, quindi per vedere se è maturo basta che lo schiacciate leggermente e noterete subito che è morbido, anche soprattutto qui alle estremità. Ora andiamo a tagliare l'avocado a metà, così rimuoviamo il nocciolo con questo trucchetto. Senza tagliarvi le dita ovviamente. Certo. E mettiamo la polpa in una ciotola. aggiungo anche un pizzico di sale e ora schiaccio l'avocado in modo da creare una specie di crema. E la nostra crema di avocado è pronta. E ora prendiamo un pomodoro e lo tagliamo a fette. E ora siamo pronti per assemblare il nostro tortino o forse è meglio chiamarlo sformato. Non so, diteci voi poi alla fine nei commenti. Io utilizzerò una pirofila come questa, la mia è ovale, ma va benissimo anche rettangolare o quadrata, quella che avete in casa. Spennello la pirofila con un po' d'olio d'oliva e ora facciamo il primo strato che sarebbe quello di melanzane. Andiamo a distribuirle sulla base della pirofila. Poi aggiungo uno strato di avocado. Poi aggiungo uno strato di pesto. Pesto fatto in casa, potete farlo anche voi con la nostra ricetta. Ve la lasciamo nei commenti. Ovviamente il nostro è senza formaggio. bravissimo. E poi aggiungo anche uno strato di pomodori. Sui pomodori metto anche un pizzico di sale. E ora andiamo avanti con il secondo strato. Quindi ripetiamo melanzane, poi aggiungo l'avocado, non scordiamoci il pesto, mi raccomando, i pomodori e infine concludiamo con le ultime melanzane sulla superficie. Un po' di pesto sopra, così rendiamo tutto più uniforme. E poi io aggiungo anche delle mandorle a lamelle, ma per pura decorazione. Quindi se volete omettere questo passaggio potete tranquillamente farlo. O metterci altro sopra. Certo. E ora mettiamo il nostro sformato in frigo per circa dieci minuti. E ora siamo pronti per l'assaggio. Io ho una fame. Non so te Alessio. Tantissimo. Andiamo subito. Ma prima lasciate un mi piace al nostro video, mi raccomando. Condividetelo anche, supportateci come soltanto voi sapete farlo. E vi ricordo inoltre che nel nostro libro potete trovare tantissime idee facili e veloci. Ovviamente senza glutine e senza latte. Il libro si chiama Zero glutine, zero rinunce. Se non ce l'avete ancora vi lasciamo il link qui sotto nei commenti oppure vi ricordo che lo trovate in tutte le librerie. Che profumo, eh? Com'è? Wow. Buono, eh? È proprio ciò che ci vuole con questo caldo perché è freschissimo.